Anna Fucili, un'opera che si propone di dare unità storica, ambientalistica e tanto altro su un territorio? Sì, un territorio vasto, la cosiddetta Valle Gaifana che si estendeva da Urbino fino alle porte di Fossombrone che oggi è distribuita su tre comuni, Urbino, Fossombrone e Fermignano e all'origine di tutto c'è un'antica abbazia, l'abbazia di Sant'Angelo appunto nella Valle di Gaifa questa denominazione Valle di Gaifa viene ripresa più volte dagli storici e quando l'abbazia poi comincia a perdere di importanza sarà poi la pieve di Santo Stefano di Gaifa a ereditarne le funzioni e anche i territori e anche quindi le chiese dipendenti Ecco, un'opera che serve anche probabilmente a chi vive oggi in questi territori per recuperare il senso della propria identità, il proprio passato per sapere chi siamo e da dove veniamo Certamente, credo che possa guardare con consapevolezza quello che lo circonda a volte si abusa per esempio sul termine pieve, si pensa che le chiese di Campania siano tutte pievi Invece non è così, la pieve che aveva una funzione principale che aveva di impartire il battesimo alle popolazioni e che aveva le sue dipendenze, chiese e cappelle poiché in genere gestiva territori ampi e quindi aveva necessità vista la difficoltà di spostarsi dell'epoca, siamo in epoca medievale aveva necessità di succursali, diciamo così, nelle quali poter espletare il culto cui erano preposte Monsignor Davide Tonti, quest'opera ha il patrocinio dell'Arcidiocese di Urbino Urbania e Sant'Angelo Invado Questo perché si propone di riunire non solo gli aspetti storici ma anche quelli relativi a una comunità che ha le sue radici nella storia D'antronde ripercorre le vie della memoria, fa recuperare a noi il senso anche non solo della vita passata ma del presente, da dove veniamo le nostre radici Far capire che veniamo da una struttura culturale e in questo viaggio noi vogliamo continuare a camminare secondo non una processione sclerotica fissa in sé ma aperta al futuro con dei valori che non moriranno mai, sono i valori come abbiamo detto poc'anzi, i valori del cuore Giuliana Carletti, per il Circolo Culturale Pieve di Gaifa questa è stata un'operazione importante sotto molti punti di vista Sì grazie, per noi è stato quasi come il veder nascere, è una creatura della nostra associazione è proprio una cosa voluta dal profondo del cuore questo volume racconta quella che ridà l'importanza storica di Gaifa, di tutta la vallata ripone quella che è stata, ripone la storia nella giusta posizione, nel modo giusto di essere visto Massimo Fiorani, la Presidente del Circolo Culturale Gaifa ci ha illustrato questo progetto ma ce l'ha accennato, ma in realtà è qualcosa di profondo e di interessante, cosa si tratta? Perché appunto loro fino adesso hanno parlato della storia dell'uomo dal punto di vista religioso filosofico, architettonico, geografico, geologico e hanno toccato tutti questi punti qui siamo invece nella natura e questo campo rappresenta la filogenesi dei frumenti cioè l'evoluzione di tutti i frumenti, prometeo produttrice specializzata nel farro il primo cereale coltivato nella storia dell'uomo 12.000 anni fa con il farro l'uomo diventa agricoltore un campo didattico per far vedere cosa è successo in 12.000 anni di storia il farro, l'uomo diventa agricoltore con il farro nel percorso il farro viene abbandonato perché è un cereale che alla trebbiatura deve essere decorticato sgusciato, un lavoro che nel grano non c'era bisogno e quindi l'uomo inizia a consumare il grano ma i giorni d'oggi il farro per la sostenibilità, un cereale estremamente rustico quindi si adatta benissimo a questi terreni qui, tutti i terreni della dorsale appenninica terreni marginali, poveri in agricoltura e allo stesso tempo ha una grande potere di rusticità bassa richiesta nutrizionale, alta competizione con le infestanti perfetto per essere coltivato in questi luoghi e in biologico